Buongiorno a tutti amici e amiche di Volonright, oggi siamo al primo seminario del 2019 di Aria e in questo caso abbiamo parlato del lutto in adolescenza, abbiamo qui lo psicoterapeuta Luca Corbetta e la psicologa Maria Vittoria Rosso. Allora chiedo a te Luca, come fa una persona, o comunque in questo caso un adolescente, a capire qual è il momento per aprirsi e quindi affrontare il lutto, parlare del lutto? Allora purtroppo non c'è un momento definito a priori corretto, esatto per tutti, di base l'adolescente e la rete che ha intorno per cui la famiglia, gli amici possono supportarlo e aiutarlo, tendenzialmente quando si sente o quando fondamentalmente riesce a trovare il coraggio, la forza di aprirsi e comunicare con gli altri, quello forse è il momento migliore e soprattutto in quel momento le persone che sono intorno devono essere capaci di cogliere quell'esigenza e rendersi disponibile per aiutarlo realmente. Perfetto, grazie. Invece chiedo a te Maria Vittoria, nel momento in cui un ragazzo si rivolge ad Aria, qual è il leader che voi gli suggerite di intraprendere? Allora, quando un ragazzo si rivolge ad Aria, prima di tutto facciamo un primo colloquio conoscitivo, che serve appunto per capire un po' la motivazione della richiesta e in base un pochino ai temi che emergono nel primo colloquio conoscitivo si valuta se fare un percorso di sostegno individuale o una consulenza familiare oppure un percorso di gruppo e si cerca di capire un pochino insieme anche in base alle esigenze della specifica richiesta. Tra l'altro noi abbiamo anche un'equip con competenze diverse, per cui durante il primo colloquio, nel caso in cui si voglia fare un percorso di sostegno individuale, si cerca anche di individuare chi dell'equip è la persona più adatta ad affrontare quel tipo di percorso. Perfetto, grazie, vi ringrazio e alla prossima!